Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio spiegarvi a cosa servono gli uccelli d'oro, questi uccelli qua. Nel corso dell'esplorazione della grande mappa di gioco vi imbatterete spesso in questi uccelli. Dovete, come per le volpi, seguirli perché vi conducono a vari luoghi. A differenza delle volpi che vi portano, diciamo, ai santuari, gli uccelli d'oro vi portano alle terme, ai rifugi, ai collezionabili, a tante cose che potete trovare nascoste nella mappa. Quindi, quando state cavalcando e trovate un uccello d'oro, seguitelo perché vi porterà sempre in un punto interessante, che sia un rifugio di, diciamo, di alleati dove potete commerciare, accettare nuovi incarichi, prendere materiali, eccetera, che dei collezionabili, personalizzazioni per il personaggio ed altro ancora.